Tur nell'isola per Massimo D'Alema che dopo la tappa a Selarjus nella mattinata di ieri è arrivato a Sassari nel pomeriggio per presentare Movimento Democratico e Progressista, il nuovo soggetto politico nato recentemente dalla scissione dell'ala sinistra del Partito Democratico. Si tratta della prima iniziativa pubblica in Sardegna per promuovere un nuovo centrosinistra, proponendo come tema di riflessione un argomento estremamente attuale e particolarmente sentito nella nostra isola. Lavoro e disuguaglianza in un paese povero di giovani e con giovani sempre più poveri. Il centrosinistra fa riferimento all'esperienza di questi anni, a partire dall'esperienza dell'ulivo, cioè l'esperienza del centrosinistra, cioè dei governi che si sono sforzati di stare dalla parte dei lavoratori, dei giovani e non dalla parte del privilegio e del profitto. Noi ci troviamo di fronte a un paradosso, il paradosso è che chi dovrebbe contrastare il privilegio, chi dovrebbe contrastare e difendere i diritti dei lavoratori, invece si mette dalla parte del privilegio e contro i diritti dei lavoratori. Hanno partecipato all'incontro presso la Camera di Comercio di Sassari, Iuri Marcialis, Daniele Cocco, Pasquale Lubinu, Michele Piras, Maria Pia Pizzolante, Omar Chessa e Gianni Rassu, al sindaco di Sassari, Nicola Sanna, i saluti iniziali. Un incontro che si innestra in un periodo delicato per la sinistra del nostro paese e della Sardegna, ha detto alla platea il primo cittadino, una prova difficile che ci impone di trovare una soluzione, di dare una prospettiva che nel nostro paese la sinistra ha sempre saputo indicare, credo sia utile riflettere sul destino del paese e delle forze progressiste. L'augurio è che, ha concluso il sindaco, proprio in considerazione del tema del lavoro dei giovani si riesca, con l'azione di questa nuova forza politica, a trovare nuova linfa, un nuovo impulso per la difesa dei diritti fondamentali e del lavoro per i giovani.